Buongiorno amici, buongiorno amiche, oggi forse la settima tappa, forse la tappa più dura, c'è una pioggia nebulizzata ma pazzesca che entra comunque, è un forte vento, sto andando ai 15 km orari, attorno a me c'è tutto un tempo orale e me l'ho messo così per circa 3 giorni, non ho tutto a mio viso che si iniziano a vedere anche i risultati di questa grande fatica, però il rumore è alto, la condizione è anche, la gamba sta tenendo bene e colgo l'occasione per ringraziarvi, che siete tantissimi, che mi state seguendo, mettete like, commentate, commentate perché anche se non posso rispondere a tutti perché non c'è per quanto il tempo logistico, commentate perché vi leggo, poi quando toglierò il caso, spero di riuscire a fare e soddisfare tutti, condividetemi i miei post, facciamo conoscere questa esperienza, tutto diventerà un libro e anche, e anche un film, vi lascio, vi lascio, questo, è tosta, ma bellissimo, ciao!